Grazie a tutti. Era indisponibile nella giornata odierna in quanto presiedeva la commissione sulle migrazioni del Senato che è partita per la Tunisia e è stata una cosa decisa nella settimana scorsa. E quindi si è dovuto cambiare programma e faremo una conferenza su un argomento completamente differente. A te ci dispiace per quelli che non hanno avuto modo di sapere questa cosa e speriamo di almeno poterli interessare con quello di cui parleremo. Nel frattempo ci scusiamo anche perché essendo questo cambiamento avvenuto praticamente 3-4 giorni fa, io e il collega Bondioli del Museo Pigorini siamo trovati un po' in una certa difficoltà a mettere in piedi in tempi così veloci qualcosa che fosse all'altezza della situazione e all'altezza della importante mostra che voi penso avrete tutti quanti già visto, sicuramente vedrete, e che rappresenta da tanti anni credo la prima grande mostra sull'evoluzione e quindi un momento molto importante per noi che ci occupiamo di evoluzione dell'uomo, un momento significativo e siamo anche fra l'altro molto contenti che c'è stato un prorogarsi di questa mostra a dimostrazione probabilmente di un interesse, di una frequentazione massiccia della mostra stessa, fra l'altro so che la mostra è programmata per una serie di spostamenti, quindi probabilmente uno spostamento fino ad aprile soltanto legato al fatto che successivamente era già stata programmata per essere spostata. Diamo inizio quindi alla nostra conferenza. Il titolo, come voi vedete, è A metà del cammino di Omo. Perché questo titolo? Perché voi vi chiederebbe come mai questa cosa? A metà del cammino di Omo perché noi ci occupiamo proprio di questo, del cammino di Omo a metà strada, a metà della sua storia evolutiva. La missione italiana in Eritrea che io coordino e che poi comprende ricercatori di moltissime università italiane, di istituzioni italiane e anche straniere, si occupa proprio di questo intervallo cronologico intorno a un milione di anni, quindi proprio alla metà del cammino del genere Omo. E avrete la fortuna in qualche modo, non parleremo di migrazioni, però vedrete cose che abbiamo scoperto non più tardi di un mese fa. Quindi noi siamo appena tornati dall'ultima campagna in Eritrea dove lavoriamo e abbiamo trovato quest'anno ulteriori resti fossili che vengono qui mostrati per la prima volta e quindi c'è un interesse grosso perché proprio è qualcosa di molto attuale, molto vivo. A metà del cammino di Omo. Allora, Luca, come mai a metà del cammino di Omo? Noi ci siamo organizzati per parlare un po' insieme, cioè parlare tutti e due assieme. Un po' parlo io, un po' parlo lui. Quindi ci scuserete, ogni tanto ci passeremo la palla della discussione. Siamo a metà del cammino di Omo se noi accettiamo che Omo abbia due milioni di anni. E siccome stiamo orando a un milione di anni siamo a metà del cammino di Omo. E il cammino di Omo sta in una selva oscura. E questo assolutamente il buon padre Dante ha trovato il punto centrale. Perché è un momento cruciale che ci crea molti, molti problemi. Ed è una selva oscura non per l'uomo allora, per lui che se la viveva probabilmente molto bene, ma per noi che lo dobbiamo capire. Ed è una selva con tutte le fiere previste anche sempre dal nostro padre Dante. Ci sta il leone che sono le difficoltà politiche per riuscire a andarci e l'aggressività di un mondo che continua a essere in guerra. E c'è la lupa affamatissima dei tagli alla ricerca, che tanto ci hanno fatto soffrire e che ci hanno fatto lavorare con molta più fatica a quello che avremmo voluto fare forse in pochi anni. Ce ne abbiamo messi quasi 15 per riuscire ad arrivare a quello che abbiamo oggi. Però la buona fortuna che, contrariamente alle ipotetiche, diciamo, profezie dantesche del veltro, noi il veltro ce l'abbiamo. Abbiamo chi ci salva. E che cos'è il veltro? Il veltro è il fatto che noi abbiamo una forte teoria, dei forti strumenti che ci permettono di capire esattamente qual è la storia di Omo. Ed è tutto quello che avete visto e che ha attraversato tutto il senso della mostra che avete fatto fino ad oggi. e che dice che c'è un tempo lunghissimo di cui noi rappresentiamo l'ultimo momento. Fate i conti. C'è un museo americano, di cui non mi ricordo il nome, dove c'è una torre alta 49 metri. Ogni millimetro di quella torre è un milione di anni. Nella storia della vita sulla terra, della vita della terra, non della vita sulla terra, della storia della terra, gli ultimi due millimetri che sono fatti d'oro, perché gli americani pensano che siamo molto importanti, sono gli ultimi due milioni di anni. Nonostante questo, i due milioni di anni che è la nostra storia è un briciolo, ma per noi è un tempo lunghissimo. E dobbiamo abbandonare l'idea che noi siamo gli ultimi, i più importanti, la fine di questa storia. No, questa è una storia di cui noi siamo un fragile accidente. Tanto per dirvelo, se voi guardate come è fatta, diciamo, l'albero della vita, noi guardate, gli animali sono un che comprende praticamente tutto quello che noi consideriamo di vivente e che invece in realtà rappresenta una piccolissima parte della biomassa di quello che esiste al mondo. E questa vita che dura da 3,8-3,5 miliardi di anni è veramente qualcosa di enorme di cui noi, scusatemi, dobbiamo metterci un pochettino umilmente a pensare che siamo una piccola cosa. E abbiamo noi nella nostra mente una serie di preconcetti derivanti dalla necessità di esistere in un ambiente che sono tutti tendenzialmente sbagliati. Quando noi vediamo queste immagini, che è un'immagine tipica che si vede ovunque, lo si vede nella pubblicità, lo si vede in qualsiasi cosa, dobbiamo pensare che non è vero. Noi non siamo un frutto di una lineare storia che ha portato da un povero animale quadrupede a noi meravigliosi semidei greci e non siamo in particolare noi qui dentro in questa sala, tipi europei, il campione di Homo sapiens. Non lo siamo noi, noi siamo una delle tante varianti. Ed è tanto vero che Edward Drinkope, un paleontologo e anatomista americano che è vissuto alla metà del XIX secolo, si era definito lui l'olotipo di Homo sapiens. L'olotipo cosa è? È lo specimen che praticamente definisce, rappresenta una specie ed è usato in tassonomia per permettere le comparazioni di molte specie animali, soprattutto insetti, esistono degli specimen, anche per alcune specie di Homo esistono, che sono rappresentativi e rappresentano un po' come a Parigi c'è il metro che rappresenta il punto di riferimento, rappresentano questa cosa. E lui si era considerato l'olotipo di Homo sapiens. Nulla di più sbagliato, non esiste un olotipo di Homo sapiens, ma se mai esistesse sarebbe molto più simile a questo signore qui, che è un reperto di Homo sapiens trovato in Etiopia circa 165.000 anni fa, che non è un bianco, ma tanto per iniziare un nero, perché i nostri antenati erano neri. E questo così, nel pensare comune, è una cosa che stupisce molte persone, ma si pensa che quando questi Cro-Magnon vennero in Europa e colonizzarono l'Europa e buttarono via i rudini andertaliani scuri, neri, e questi erano biondi, alti e con gli occhi azzurri, sì, erano alti, ma erano alti perché erano più simili ai nubiani che agli svedesi, erano di pelle scura e sono stati i primi wukum pra che sono arrivati in Europa. Pensiamo anche che l'uomo derivi da una serie di mutazioni molto più forti, che sia un individuo particolarmente derivato, con cambiamenti, e questa era un'idea preconcetta, anche questa si è dimostrata sbagliata. Un articolo abbastanza recente, che ha studiato i tassi di mutazione negli scimpanzei e negli uomini, ha dimostrato esattamente il contrario. Cavallis Forza, l'homo sapiens, è molto meno derivato di quello che è uno scimpanzee attuale, quindi è molto più evoluto uno scimpanzee in qualche maniera. Ma veniamo ai nostri problemi, ai reperti scheletrici, ai fossili, che sono l'oggetto del nostro studio. Un rapido calcolo che possiamo fare, sono state circa 400.000 generazioni di ominini, ominini sono tutti quelli che sono vissuti dal momento in cui c'è stata la deviazione, la separazione dalla linea che ha portato verso l'uomo e quella che ha portato verso le altre antropomorfe. Ammettendo 10.000 individui, che è un calcolo per difetto per ogni popolazione, ammettendo, cioè non ammettendo, l'unico dato certo di questa cosa è che ogni scheletro umano è composto da 210 segmenti ossei, più 20 denti decidui, più 32 denti definitivi, a parte qualche agenesia, in tutto quindi 262 elementi, significa che 1.048.000 miliardi di potenziali fossili ci sono stati nel corso di tutta l'evoluzione del genere uomo. Ne sono stati trovati circa 50.000, spesso in frammenti, e 50.000 con una larga stima. Quindi? Quindi vuol dire che, signori miei, la possibilità che uno di voi finisca sugli scaffali del Museo Pigorini del futuro come un reperto fossile è molto minore della probabilità che voi vinciate il superenalotto. e questa è una cosa che vi fa capire quanto frammentario è difficile il nostro lavoro. Per cui, la cosa più fondamentale che noi abbiamo, ed è la ragione per cui noi non solo studiamo i fossili, ma ce ne andiamo anche a cercare, questa è la grande differenza, noi abbiamo bisogno di più materiale. La nostra storia, qui ce la guardiamo, adesso vi faccio la cosa che non bisogna fare, cioè passiamo via velocemente attraverso i dati. Questa è una scala logaritmica, partiamo da selantropo, andiamo alle prime forme di ominine, probabilmente bipidi, abbiamo all'ardipiteco 4 milioni e mezzo di anni fa, poi incominciano a diventare di più, ma incominciano a diventare di più anche perché li troviamo di più, perché è più facile che si conservino. Poi cominciamo ad arrivare all'astropitecine, c'è la grande radiazione dell'astropitecine che ci prevede un mucchio di individui, il momento fondamentale è circa 2 milioni di anni fa, in cui convivono delle forme di bipedi, antropomorfi, senza coda, con la stessa formula dentaria, un cervello mediamente abbastanza grassa, grande in tutto il mondo e ne vivono di tanti tipi e hanno tanti generi. Da questi, molto velocemente, tra un milione e mezzo, un milione, scendiamo a una ridottissima quantità di generi. Perché sia questo successo? O comunque se questo sia un difetto interpretativo nostro, o è un collo di bottiglia naturale, o è un collo di bottiglia geologico, cioè non ritroviamo gli strati di quello che noi stiamo cercando, è la ragione per cui noi stiamo oggi studiando, perché per arrivare poi fino a noi ci vorrà un qualche cosa. Il punto centrale comunque è che noi dobbiamo capire chi sono gli attori. Nel teatro evolutivo la specie sono gli attori principali, se non sai chi sta recitando non capirai mai la trama, dice il nostro amico Jan Tantessal che in questa frase appunto ci dice che dobbiamo appunto per comprendere il quadro generale andare a seminare i reperti. Ma vediamo quali sono gli attori. Questi sono gli attori di Homo, anzi alcuni, da alcuni ricercatori non sono nemmeno considerati Homo. L'Homo rudolfensis e l'Homo habilis che sono le forme più antiche, quelle che si sono sviluppate in Africa intorno a due milioni e mezzo di anni, secondo alcune recenti interpretazioni sarebbero semplicemente delle austropitecine evolute, delle austropitecine rudolfensis e habilis. Questo era un altro dei preconcetti che noi abbiamo avuto per un lungo periodo di tempo, quello di considerare che la scheggiatura della selce fosse, diciamo, la cosa che differenziava Homo da austropitecus, sembra un altro dei tanti paradigmi che non hanno senso. Comunque in ogni caso intorno a due milioni di anni in Africa compare, si evolve la specie ergaster di Homo. Ed è il primo Homo sicuramente su cui sono tutti d'accordo in qualche maniera. Ed è il primo, diciamo, taxon di Homo che compie il grande balzo. Dall'Africa si espande, si espande in primi istituti tutta l'Africa e poi esce dall'Africa. Esce dall'Africa e va in Eurasia. E questo già, diciamo, intorno praticamente a due milioni e otto e... Sono andato avanti. Sì. Vabbè, continua. Va e occupa questi nuovi territori. Tuttavia, noi dobbiamo capire che la quantità di reperti in questi periodi molto antichi è molto bassa, per cui esiste una famosa legge. Ecco, e questo è l'altro nostro problema. Vi ottenete presente che in questa discussione di oggi io farò sempre e spesso un po' la parte del cattivo, cosa che mi vede benissimo, peraltro. Ad esempio, la legge di Washburn, che era un simpatico professore americano di antropologia, dice che meno sappiamo su qualche cosa, più ne possiamo parlare, perché nessuno ci può contraddire. È una delle leggi fondamentali della scienza. E questo è estremamente pericoloso quando parliamo di uomo. Perché, come dice Milford Walpole, un nostro carissimo amico, se noi parliamo delle specie, degli insetti, è pericoloso fino a un certo punto, se dichiariamo troppe specie o troppe poche. Non ha una grandissima importanza, è un danno cognitivo, non è un danno sociale. Quando parliamo di uomo, noi dobbiamo tenere presente che la scienza, e in particolare la nostra scienza, che è l'antropologia, perché lo studio di noi stessi è un qualche cosa legato profondamente alla società. Perché, ricordiamoci, e questa è una cosa importante a ricordarsi, che è una delle pochissime cose che ci fa riconoscere noi stessi come differenti dal regno animale in genere. Sono pochissime, guardate, non credete che siano molte come voi pensate, sono molto meno di quante voi pensate. Una di queste è che noi ci interessiamo della nostra storia. Perché abbiamo la capacità di creare modelli interiori, e creando dei modelli interiori comprendiamo, e tentiamo di crepire il nostro passato. Quindi è proprio questa nostra pulsione a studiare il nostro passato che ci spinge a questa cosa. Ma purtroppo su questi modelli del passato tentiamo spesse volte di riprodurre il presente. E l'ultimo secolo, il secolo passato, ci ha dimostrato spesso quanto è pericoloso parlare di antropologia e società senza un buon controllo. Per fortuna noi abbiamo la macchina del tempo. Noi siamo tra i pochissimi, insieme ai paleontologi, che posseggono delle macchine del tempo. Queste macchine del tempo purtroppo non funzionano molto bene, non sono come quelle di Wells, che andavi dove volevi. Noi abbiamo delle piccole macchine del tempo che sono degli oggetti che contengono, cristallizzati al loro interno, degli eventi del passato. Li conservano a livello molecolare, li conservano a livello atomico, li conservano a livello morfologico. E sono una serie di oggetti che noi dobbiamo però disporre in maniera coerente. Il nostro problema è essere coerenti il più possibile creando degli scenari. Questo, ad esempio, è uno degli ultimi proposti che tiene presente, ad esempio, l'arrivo di una nuova specie, la Staropithecus sediba, che mette in discussione il problema che noi abbiamo degli uomini a 2 milioni e 4, la L661, che non sappiamo più a questo punto che cosa sia, perché se in queste interpretazioni noi facciamo derivare da queste forme nostre piccine, le forme umane. Ma in tutto questo noi dobbiamo tentare di fare una narrazione, perché il nostro problema è narrare una storia la più coerente possibile. Perché quando andiamo a fare questo tipo di scienza noi dobbiamo prendere dei dati profondamente, diciamo, scientifici nel senso di quantitativi e tentare di trasformarli in una narrazione che sia coerente, che è quella che viene chiamata uno scenario. Oggi andiamo a parlare di quello che noi facciamo in uno scenario intorno a un milione di anni e che, vedete, è importantissimo, perché intorno a un milione di anni c'è quel braccetto che va a sinistra, che va verso il cavallo di sforza, che noi tentiamo di dire che è un po' un archetipo di noi stessi. Ma abbiamo detto che a un milione e otto l'uomo e le prime forme di uomo sono già uscite dall'Africa. Che fosse uomo ergaster, che fosse uomo habilis, come alcuni dicono, è non particolarmente importante. Esce dall'Africa per la prima volta, il primo out of Africa. Ce ne saranno molti nel corso dell'evoluzione dell'uomo, perché l'evoluzione dell'uomo si è svolta in gran parte in Africa e da lì poi si è irradiata. Esce e noi lo troviamo appunto poco dopo, appunto a un milione e otto, lo troviamo proprio ai confini fra l'Eurasia. Sembra proprio un paradigmatico questo fatto che De Manisi sta proprio sul confine fra l'Europa e sull'Asia. Troviamo questi primi reperti e ne troviamo e ne troviamo tanti e ne troviamo. Ma già centomila anni dopo, centomila anni dopo, come vedete, occupa molta parte del vecchio mondo, in Africa, in Europa e in Asia, si trova un po' dappertutto, arriva fino in Indonesia. Quindi un irraggiamento velocissimo rispetto ai tempi dell'evoluzione. Ma sappiamo anche che questo fenomeno dell'out of Africa in verità ha avuto anche dei in of Africa, nel senso che è stato un po' un andirivieni in quanto troviamo delle forme più tarde di Homo ergaster o di Homo erectus africano che posseggono dei caratteri che si sono sviluppati in Asia, quindi sono ritornati, sono andati avanti e dietro per molto tempo. Ma come ci sono andati, Luca? Ci sono andati a piedi e questo mi sembra normale e che ci siano andati a piedi ve lo voglio far vedere perché è bello, voi l'avete visto, lo conosce tutti, conoscono le orme di Letoli dove c'è la prima prova che camminano gli austro, più decine su dei piedi ma non solo quello, ci sono anche bellissime orme di Homo ergaster trovate circa un milione di anni fa a Cobbifora, sono molto belle e ci rappresentano veramente questa umanità diambolante che si muove. Attenzione, si muove, ma non è che si muove perché sono fatti non foste per vie come bruti delle vele facemmo ali al folle volo, no, 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 semplicemente perché tutta la megafauna si muoveva e insieme alla megafauna si muovevano pure loro e andavano avanti e indietro e sono uomini interessanti che camminano bene che sono alti che hanno belle falcate hanno i piedi molto simili ai nostri e poi c'abbiamo anche in Italia avete visto i calchi su in mostra anche se sembrano veramente molto profondi e brutti però fondamentalmente l'esempio dei impronti di Rocca Monfine fanno parte dello stesso tipo di Omo quindi noi abbiamo oggi vogliamo portare un insieme un protagonista che è questo individuo Omo erectus Omo ergaster che sta in tutto il mondo dall'Asia Trinil Sanjiran Damanisi OH9 in Africa quello in rosso è un esempio di come procede la scienza nel 2004 Schwartz lo metteva tra Omo erectus grazie a Giorgio Manzi oggi questo individuo è passato altrove è Ceprano che è finito tra gli ibergensis e erano degli individui fondamentalmente che rispetto a oggi forse non erano così dimensionalmente differenti lasciamo stare floresiensis mettiamoci a ragionare lasciamo stare le osteopidecine in fondo non erano molto diversi noi avevano solo un cervellino abbastanza più piccolo e l'ingrandimento l'accrescimento della dimensione cerebrale sembrano qualche cosa che accompagna non linearmente la nostro avanzamento nel tempo vi sottolineo questo non linearmente perché tenete presente che il cervello grande come il nostro è una cosa abbastanza più tarda anche se c'è moltissima variabilità e comunque attenzione perché anche su questa cosa che fino ad oggi veniva predicata come una grandissima verità il ritrovamento di floresiensis a patto che lo accettiamo dimostrerebbe che size doesn't matter la dimensione non ha nessuna importanza perché noi abbiamo un individuo con un cervello poco più grande di un'arancia che ha una cultura materiale sviluppata e che è molto recente vicino a noi forse dobbiamo riconsiderare anche questo comunque in tutto questo ecco che compare questo Homo erectus Homo erectus lo troviamo la prima volta viene individuato e la fine di due secoli fa 1891 Eugène Dubois un medico che seguiva le truppe coloniali partendo da un errore di interpretazione di Heckel il quale sosteneva che secondo lui questo anello mancante siamo in pieno positivismo quindi si cercano gli anelli mancanti quindi l'anello mancante fra l'uomo e le scimmie che si chiama ovviamente pitecantropo perché è chiaro qual è il nome voglio dire si deve trovare in Indonesia perché secondo Heckel quello che è deputato più forte a essere il nostro parente più prossimo è l'orangutang e non il gorilla e lo scimpanzè come poi scopriremo e quindi il buon Dubois che deve andare in Indonesia per lavoro va lì e fa una cosa incredibile per l'antropologia per la paleantropologia dice ci deve stare e lo cerca e incredibilmente lo trova anche lo trova subito quasi immediatamente lo trova trova i primi pitecantropi missioni successive per anni scaveranno e rivolteranno l'isola e soltanto negli anni 30 verranno fuori dei reperti degli altri reperti nessuno ne troverà degli altri ed è il primo reperto il famoso pitacantropo di Gialo ma alla fine intorno agli anni 70 la diversità morfologica degli erectus africani porta da alcuni ricercatori a identificare una nuova specie Omergaster che questo che voi vedete è l'olotipo proprio di Omergaster ed è diciamo quindi questa differenziazione non tutti l'accettano per molti Ergaster e Rectus è la stessa cosa però ci porta a avere queste due due forme di Omo nella fase iniziale appunto l'Omergastus come forma asiatica derivata e l'Omergaster come forma originaria che è quella da cui poi si sono evolute le forme successive ma però come sempre le cose non vanno bene come uno vorrebbe perché di fronte a una schematizzazione abbastanza semplice come questa poi le ciambelle e il buco non ce l'hanno sempre per cui cosa succede? Si succede che ad esempio nel 2007 Fred Spur e collaboratori tirano fuori questo bellissimo cranio da Illaret che è appena contemporaneo cioè appena più o meno contemporaneo non molto distante ad OH9 che è considerato un esempio di individuo asiatico in Africa OH9 sta Old White Gorge che sono decisamente differenti la differenza è molto grande è maggiore di quella che vediamo la differenza che c'è tra l'amico mio Milford Wolpov e la sua Sanghili che è la sua preferita studentessa oggi professoressa a Madison credo che è una dei più grandi antropologhe che ci siano e dimostra come anche noi siamo estremamente differenziati tenete presente che Milford Wolpov dice che Sanghili è la persona più intelligente che ha mai conosciuto quindi dimostra ancora una volta che la dimensione non fa molto importanza però succede che la variabilità di tutta l'umanità moderna ad esempio sulla dimensione del cervello è e guardate che noi abbiamo una bella variabilità è inferiore a quella di Homo erectus sensulato cioè tutti asiatici africani o addirittura degli africani o addirittura degli africani dell'est Africa quindi vorrebbe significare che noi forse non stiamo comprendendo qualche cosa addirittura molto tardi cioè quando noi pensiamo che sia già verso un'ominazione più simile a noi troviamo delle forme diminutive come questa di Olorgesaile che ha una storia bellissima perché il suo ritrovamento è stato fatto per purissimo caso dopo che il professor Potra l'ha cercato per 50 anni l'ha trovato infine nel pezzo che aveva mandato ad Atari in America hanno aperto il pezzo per ad Atari e hanno lasciato dentro il fossile comunque è una cosa molto divertente questo pezzo diminutivo questo individuo estremamente piccolo dimostra che c'è molta variabilità una variabilità che oltretutto ci è stata ulteriormente complicata dal fatto che molti si dicevano benissimo c'è un certo tipo di variabilità sulla dimensione cerebrale c'è un dimorfismo sessuale però ad alcuni aspetti ad esempio a livello pelvico c'è una certa omogeneità perché il record fossile fino allora dimostrava una questi sono tutte ossa dell'anca abbastanza una similarità anche la nostra ossa dell'anca questa è una ossa dell'anca questa qui che abbiamo trovato noi a buia ne parleremo dopo entra all'interno di questo paradigma di un certo tipo di forme peccato che intorno a un milione a Gona è uscito una nuova forma di osso dell'anca molto bello molto completo quindi è molto chiaro che ha portato addirittura a riconsiderare la forma dell'osso dell'anca in nome Bergast ha fatto riconsiderare Nario Cotomi il ragazzo del Turchana che sta su esposto e che addirittura ha portato Christopher Rapp a dire è un astropiteco un astropiteco a un milione che ci fa un robustus non lo so quindi c'è ancora molto molto rumore in giro però per fortuna abbiamo un quadro che questa è una recentissima ricostruzione dell'albero evolutivo fatto dal collega Manzi che ci dice comunque che intorno appunto a un milione di anni queste forme di ergaster africane si sono evolute in direzione delle delbergensis che avrebbe diciamo preso poi due vie una via africana e una via asiatica e alcune delle forme africane sì che intorno agli 800.000 600.000 già sono presenti in Africa e più o meno in quelle date anche in Europa successivamente avrebbe portato verso la speciazione verso le forme sapiens ma è un milione il momento cruciale gli erectus continuano a evolversi in Asia senza arrivare da nessuna parte forse arriveranno a floresiensis in Africa si va in questa direzione ma è un momento come vi dicevamo cruciale ma anche privo di reperti a un milione di anni abbiamo pochissimi reperti praticamente vengono fuori intorno agli anni 90 i reperti africani il nostro reperto viene scoperto dai nostri colleghi dell'università di Firenze nel 95 e è una scoperta come al solito avvenuta l'ultimo giorno della missione è una scoperta che nasce come nascono spesso le scoperte parantropologiche perché nascono da interventi dei geologi i geologi hanno la fortuna che noi non abbiamo di poter andare dovunque nel mondo dovunque ci sia una terra emersa vanno lì e possono tranquillamente fare le loro ricerche più o meno interessanti ma insomma riescono a lavorare in qualche maniera spesso lavorando in campagna andando in giro passeggiando incontrano nelle zone dove sono ricchi i depositi fossiliferi incontrano i depositi fossiliferi e si interessano a questi depositi fossiliferi perché sono utili per loro perché gli danno indicazioni cronologiche che non riescono a avere immediatamente devono fare datazioni ma la fa una presente già da delle indicazioni a volte in mezzo a questi reperti fossili raramente ma può succedere come è successo ai nostri colleghi di Firenze viene fuori un reperto umano e loro trovano questo reperto bellissimo un cranio praticamente completo in pezzi ma erano tutti molto vicini facilmente identificabile e lo trovano dove? Lo trovano nel punto in cui inizia il rift africano il rift africano è la grande spaccatura dovuta al diciamo lo scontro fra la zona africana e la zona asiatica che inizia questo rift proprio in Eritrea vedete si vede proprio l'imbuto dell'inizio di questa spaccatura che arriva fino in Sudafrica e in questo proprio nella parte alta del rift nella dancalia Eritrea viene fuori questo reperto in un contesto ambientale che attualmente è costituito da un deposito sedimentario di oltre mille metri movimenti tettonici e soprattutto forti erosioni hanno permesso a questi reperti che erano seppelliti sotto centinaia e centinaia di metri di sedimenti di venire fuori un ambiente molto attualmente inospitale la dancalia è una delle zone più inospitali del mondo è un posto molto caldo desertico ma non lo era all'epoca in cui vissero i nostri i nostri antenati un alternarsi di delta paludi laghi erano presenti come lo studio stratigrafico dei nostri amici geologici ha dimostrato in maniera molto chiara e in questo bacino sedimentario che attualmente è composto da un grande lago secco che sono le Samoti e due fiumi il Dandero e il Mar Balè viene fuori questo reperto il 12 dicembre del 1995 dopodiché i geologi incominciano a studiare in dettaglio la stratigrafia e appunto come vi dicevo si vede proprio questo alternarsi di questi depositi di tipo umidi in qualche modo all'interno dei quali si è creata la possibilità di una fossilizzazione perché occorrono delle particolari situazioni tafonomiche per poter avere la possibilità ai reperti di fossilizzarsi trovano l'uomo ma lo trovano in un contesto incredibilmente ricco ricco di reperti archeologici questi sono dei bifacciali delle amigdale di cultura scelleana ma troveremo si trovano tantissime anche chopper chop in tool quindi quella che viene chiamata tecnicamente modo 1 e modo 2 le industrie di modo 1 e modo 2 che sono le più antiche industrie prodotte dall'uomo centinaia di bifacciali e decine e decine di siti nell'area in cui stiamo lavorando rappresentano una fortissima frequentazione umana e questi reperti qui vedete un'accumulazione di amigdala ma ne vedremo dopo di più belle sono presenti in mezzo a una quantità incredibile di fossili di animali elefanti interi animali interi si troveranno e questa è una lista delle specie animali dei taxon animali trovati ma questo rappresenta una parte minera molti altri ne sono venuti fuori successivamente che rappresentano una grandissima biodiversità in cui appunto mostriamo qui alcuni esempi di la prossima Luca e vediamo appunto una ricchezza di una fauna legata all'ambiente umido i popotemi i coccodrilli bufali d'acqua ma anche elefanti antilopi e tantissimi altri animali quindi rappresentando un momento di vita molto molto forte all'interno della quale l'uomo si colloca anche perché noi troviamo su alcuni svariati reperti di fauna troviamo dei segni si chiamano tecnicamente cat marks sono dei segni di macellazione che sono prodotti con gli strumenti che abbiamo visto e diciamo hanno rappresentato quindi un intervedo l'uomo non cacciava sicuramente non era in grado di cacciare gli animali ma sicuramente era in grado di sfruttare le carcasse di animali cacciati dai grandi felini dai grandi predatori ha cacciato e ha cacciato scusate ha macellato anche il coccodrillo questo è molto strano forse ne voleva fare delle borsette non sappiamo ma insomma ha persino macellato un coccodrillo che sicuramente non era in grado di cacciare semmai il contrario e in questo ambiente voi cerchiate in rosso vediamo la collina su cui è stato ritrovato il primo reperto il cranio di Buia oggi è una zona dove vive poca gente sono fondamentalmente dei pastori a far e questo è il tipico passaggio di capre al di sotto della collina tant'è vero che siamo stati costretti a mettere una specie di recinto perché passavano proprio nei luoghi dove il diciamo i detriti potevano scivolare man mano che fenomeni di erosione potevano portare a uno scivolamento molti dei reperti alcuni dei reperti che abbiamo trovato successivamente li abbiamo trovati proprio sul fondo di questa collina dovuti dovuti all'erosione e su questa collina abbiamo lavorato 1800 frammenti di strumenti litici e di fauna sono stati identificati in un lavoro che per svariati anni è andato avanti con difficoltà legate proprio al punto al problema anche dell'intervento sul sito nel senso che le autorità eritere erano molto caute nel voler attaccare questa collina in maniera sistematica molti dei reperti che abbiamo trovato vi dicevo sono stati trovati in superficie però poi come vedremo siamo andati anche a scavare questa collina e nel frattempo un lavoro sistematico è stato effettuato su quel su quel reperto questo è il reperto così come era venuto fuori all'inizio come vedete è coperto di sedimenti da una parte la parte sinistra mentre la parte destra ne è priva è quella che poi è stata identificata per prima ma come mai era tutto coperto di sedimenti si è formato in un bacino lacustre e semplicemente che la parte destra è stata esposta e quindi il vento e i millenni come una grande smerigliatrice l'ha pulita mentre la parte sinistra è rimasta inclusa nel sedimento ed è stata la nostra fortuna all'inizio no perché non sapevamo come attaccare questa montagna di sedimenti ma è quella che con un certosino lavoro condotto dal nostro collega Mario Scesch che era il restauratore del Museo dell'Om e condotto anche personalmente da molti di noi per svariati mesi ha permesso questa è una fase una iniziale fase di lavorazione vedete è già stata liberata l'orbita è già stata liberata la parte sinistra pensate che quell'orbita è profonda 8 cm quindi riuscirla a pulire fino in fondo è stata un'opera veramente complicata è l'orbita più grande di qualsiasi ominide mai trovato e ha portato a finalmente a poter ricostruire tutto quanto il reperto e noi abbiamo qui la foto del giorno in cui abbiamo proprio finito il lavoro di restauro ed è stato rimontato eravamo presenti proprio io e Luca che abbiamo contribuito alle ultime fasi Mario Sceci e i nostri colleghi del museo questa è la prima foto del reperto una volta restaurato e eccolo com'è oggi è un reperto bellissimo assolutamente non non deformato è un reperto che possiede una faccia che sicuramente è una delle meglio facce conservate che ci permette di dare grandi risposte a quei siti che noi ci poniamo ma non è solo un cranio due denti sono stati trovati insieme al uno è stato trovato contemporaneamente alla scoperta del cranio e il secondo dente è stato trovato successivamente questi denti rappresentano fra i pochissimi denti di omo a milioni di anni e oltre questi denti anche due frammenti che qui sono mostrati separati ma nella foto che avevo visto precedentemente erano stati rimontati per un piccolissimo pezzettino si toccano e costituiscono poi qui si vedono già montati insieme costituiscono appunto una pelvica fortemente comparabile con quella di OH28 che è un reperto che viene da Oldway contemporaneo ma questi reperti appunto sono quelli trovati inizialmente poi abbiamo rufolato nel fondo del canale e a un certo punto cosa è successo? Il problema è che qui si comincia a complicare la faccenda sempre si complicano le cose noi avevamo un bel cranio bello intero questo qui che pensavamo morfologicamente su un'esperienza io credo che tra Alfredo io e tutti gli altri che siamo andati in quel posto abbiamo visto 10.000 20.000 cranio credo nella nostra vita e noi abbiamo pensato che per buone ragioni potesse essere un cranio femminile in particolare per la gracilità della faccia la pelvi aveva delle caratteristiche abbastanza femminili anche se non tantissimo noi stavamo tanto che se voi sentirete in giro magari qualche qualcuno ha parlato della signora di buia correva l'anno 2003 faceva un caldo terribile era l'ultimo giorno avevamo litigato con i colleghi ed i trei perché non riuscivamo a mettersi d'accordo cosa si poteva raccogliere cosa non si poteva raccogliere ciò che era indangere cosa no stavamo scendendo la collina io e Lorenzo Ruc che voi vedete qui in questa bellissima divisa di campo e stavamo scendendo e ci dicevamo alle sei di mattina ma perché noi dobbiamo non raccogliere e discutevamo sull'argomento avevamo messo giù 1800 chiodini nel precedente mese sotto un caldo bestiale lavorando a 50 gradi sotto il sole e mettendo un chiodino per ogni pezzo che si trovava io arrivo esattamente in questo punto mi chino vedo un oggetto senza chiodino e penso tramette ecco qua non si riesce mai a fare le cose fatte bene mi abbasso raccolgo il pezzo e dico a Lorenzo e questo è importante o no e lui mi lo guarda e fa hai trovato una simfisi pubblica umana che è l'unica simfisi riconosciuta da allora praticamente da Lucy al momento poi è arrivato il Sediba fino a Tapuerca ed è importantissimo perché questo piccolo ossicino qui che a voi vi fa ridere ha un potenziale informativo eccezionale perché ci permette di capire esattamente una serie di cose tra l'altro ci permette di capire la morfologia che è molto moderna ci dice che questo individuo ad esempio a livello di simfisi pubblica è molto moderno ed è maschio a questo punto ci crolla una delle nostre difficoltà uno dei nostri credi non è più forse un solo individuo forse sono più di un individuo forse dobbiamo capire meglio quindi prima cosa che facciamo decidiamo di riuscire a poter lavorare sul cranio più a lungo e meglio ma non è facile perché Asmara è una città deliziosa consiglio a tutti di voi di andarci perché ci sta benissimo Asmara ma costa andarci e c'è una certa fatica allora cosa abbiamo deciso portiamoci via virtualmente il cranio e per la prima e attualmente ci risulta unica volta abbiamo costruito una microtomografo sul campo con i colleghi bolognesi simpaticissimi gente in grado di fare qualsiasi cosa voi gli chiedete un microscopio elettronico in cucina se gli date un po' di soldi neanche tanto e un po' di tempo ve lo fanno e così ci hanno fatto questo meraviglioso microtomografo che è fatto da un traslatore un scintillatore un tubo a raggi X gli schermi in piombo li ho fatti io andando a raccogliere i tubi delle tubazioni idrauliche andate a male della città e abbiamo costruito la possibilità di misurare questa è la telecamera che guarda il detettore qui sono io che controllo quanti raggi ci stavamo prendendo per fortuna abbastanza pochi con il risultato finale che siamo oggi in grado e ci siamo portati virtualmente a casa il cranio e questa è stata una cosa estremamente importante perché ci ha permesso di raffinare in maniera importante le nostre analisi la prima la seconda cosa che abbiamo fatto è stata tentare di capire oddio allora è una femmina no è un maschio allora vediamo un po' la capacità finalmente restaurato abbiamo fatto la capacità con te a grande il cervello e ci è venuto 995 centimetri cubi andando quindi a mettersi esattamente nella parte alta delle dimensioni del cervello del periodo mica tanto qui stiamo parlando da un milione e otto a un milione e mettendosi nella parte diciamo alta degli individui con cervelli abbastanza grandi che si differenzia totalmente dagli individui con i cervelli piccoli quelli che stanno sotto adesso si absitignuria verbis si pensa femmine e maschi grande di morfismo sessuale ma a questo punto noi abbiamo questo individuo che mosaicamente ci crea grossi problemi eccolo qua questa faccia è per noi una cosa fondamentale perché ci crea una serie di interrogativi è un'unica faccia che esiste così moderna quindi pochi controlli metrici che possiamo fare ci dice che si differenzia e si differenzia totalmente eccole qui dalle forme asiatiche questo è Sangeran che si differenzia totalmente potrebbe stare in una dimensione allometrica se guardiamo nelle africane ma con Sangeran non c'entra niente non ha molta similarità non si posiziona all'interno di questa grande variabilità che abbiamo visto prima questi ve li ho fatti vedere prima sono due solo due erectus ergaster semi contemporanei l'unico contemporaneo che abbiamo di buia si trova a 503 km di distanza in Etiopia è contemporaneo di circa 20.000 anni poi in questo periodo parlare di 20.000 anni è ridicolo di differenza in età e ha esattamente la stessa dimensione cranica quindi sembra un abbassamento della variabilità perché sono molto simili tra di loro questi due individui ma in realtà se non sono simili dal punto di vista almeno morfologico esterno se ve lo guardate qui in realtà non lo sono minimamente dal punto di vista strutturale e ancora di più buia è cattiva questo scheletro questo individuo perché ci dà suggerimenti differenti a secondo di come lo guardiamo ha degli parietali estremamente verticalizzati che vuol dire che potrebbero tenere un cervello il nostro cranio non serve a essere cranio serve a tenere un cervello d'accordo noi studiamo la scatola purtroppo non possiamo vediamo male quello che c'è dentro in realtà l'endocranio di buia è piuttosto primitivo però ha questo punto di parietale molto 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 verticalizzato che è un unicum perché i suoi pene contemporanei ce l'hanno tutti invece molto obliquo a sembrare quindi un qualche cosa che va verso chi ha i parietali verticali siamo noi oppure ha un palato estremamente moderno tanto moderno che l'amico Alfredo quando la prima volta che lo vedemmo disse ma se io questo lo trovo per strada tutto così antico non penso proprio che sia perché è estremamente moderno è un qualche cosa che guardate insieme ragazza e turcana è totalmente diverso ha tutta un'altra forma e ha tutta un'altra modernità oppure chi ha dei tratti come la posizione del forname incisare che è molto avanzata quando nelle forme rettine è generalmente molto più indietro e arretrato mentre però contemporaneamente siccome è un mosaico complesso che ci dà delle problematiche scusatemi sono andato avanti ecco qui vedete questa questa è la struttura premascellare che è un tratto estremamente primitivo presente ai gorilla normalmente è in uomo praticamente assente a questo punto la situazione si complica si complica e l'analisi morfologica utilizzando questa è un po' datata ormai l'abbiamo fatta nel 2006 ma non è cambiato molto adesso abbiamo i nuovi dati che ha pubblicato Giorgio forse potremmo cambiarla mostra chiaramente che bui e daca stanno un po' per i fatti loro e qui in alto avete erectus ergaster qui sotto ci avete tutte le forme successive l'aidelbergensis quello che potrebbe dovrebbe potrebbe essere verso di noi quindi a voler significare che siamo veramente in un momento di cambiamento e dove sono anche simili morfologicamente sono diversi simetricamente da che buia quindi il nostro problema è il DEME il gruppo di individui che viveva in Africa orientale dalle parti della Dancaglia nello stesso periodo erano molto variabili o erano poco variabili cioè la variabilità che noi serviamo qui dentro è una variabilità forte o quello che noi vediamo non lo è e allora siamo posti di problema dobbiamo avere altri dati però Luca la variabilità la dicevamo ma quello che avete visto prima è il record fossile di buia che è il probabilmente era già con questi ritrovamenti il più ampio record fossile di reperti africani intorno a un milione di anni tuttavia rappresentava uno forse due individui ma non sapevamo nulla non sappiamo assolutamente nulla sulla variabilità erano delle variazioni individuali oppure c'era veramente una popolazione che aveva queste caratteristiche così particolari l'anno scorso finalmente nel 2010 nella campagna appunto 2010 riusciamo a tornare sul campo in maniera massiccia la mia università il mio rettore capiscono l'importanza di questo di questo scavo e la nostra missione entra a far parte del progetto grandi scavi di Ateneo dell'università di Roma alla Sapienza che finanzia appunto i grandi scavi della nostra università e quindi ci dà un finanziamento che per noi era del tutto eccezionale per i nostri colleghi stranieri sarebbe stata una cosa ridicola tuttavia con quei soldi riusciamo a tornare sul sito di Omo e lo scaviamo vedete quella collina la cominciamo a tagliare a fette però in un mese di scavo non troviamo assolutamente niente il l'ultimo penuto due giorni prima della fine della campagna decidiamo mentre si sta chiudendo questo sito andiamo a incominciare a visitare altri siti che noi avevamo identificato durante le ricognizioni dell'inizio del 2000 degli anni 2002 2003 2004 abbiamo fatto una serie di ricognizioni abbiamo trovato tantissimi siti ci spostiamo su un sito molto importante e per noi molto significativo Mulhuri Halo che come vedete dista 3,7 km in linea d'aria dal nostro sito ma un'ora e mezzo di durissimo e scomodissimo viaggio in fuoristrada perché le strade da quelle parti sono molto rovinate ci spostiamo su questo sito che è molto importante perché abbiamo trovato lì una incredibile concentrazione di amigdale noi lo chiamiamo il santuario delle amigdale è probabilmente sicuramente il fondo di un canale in cui si sono accumulati questi reperti poi per erosione si sono tutti trovati vicini e su una distanza di 30 metri per 12 metri così vedete c'è questa incredibile quantità di amigdale a poche decine di metri da questa spianata delle amigdale il primo giorno dopo tre ore che stavamo sul sito troviamo questo reperto e il reperto è abbiamo avuto anche tanta fortuna perché è un pezzo di toro sovrorbitario uno dei pezzi più significativi più rappresentativi più diagnostici che ci possono essere in un Homer Gaster e questo pezzo molto molto bello lo troviamo in un contesto di altri pezzi veramente perché sono altri due tre frammenti di frontale o forse pezzi di parietale ma questo è il pezzo più significativo che vediamo come praticamente combacia esattamente con quell'altro abbiamo la prima prova quindi primo che questa grande ricchezza di fossili animali con segni di macellazione di questi bifacciali di questi amigdale di questi chopper che trovavamo sono perché ci sono tanti uomini tanti reperti tanti uomini vivevano lì tanti che ce ne stavano che troviamo due reperti a così breve distanza l'uno dall'altro che è una cosa veramente incredibile e cosa succede quest'anno torniamo continuiamo a scavare il sito di Omo senza grande fortuna ma sul sito di Muglialo a un'ottantina di metri dal posto dove abbiamo trovato il primo reperto e quindi probabilmente appartenente a un secondo reperto troviamo sempre un mese fa praticamente troviamo cinque frammenti che riuniti insieme costituiscono si attaccano l'uno con l'altro questa è la porzione esterna e la prossima è la porzione interna di questo resto del cui si vedono forse si vedono anche qui i segni chiari della vascularizzazione tipica dei crani umani costituiscono un quasi completo parietale di sinistra e insieme a questi reperti viene trovato anche un pezzo di temporale e sono perfettamente identici come morfologia a quelli perfettamente comparabili a quelli del primo reperto la prossima questo viene trovato anche un frammento identico di morfologia del parietale destro l'altra porzione molto vicino quindi noi pensiamo questa è la porzione esterna interna che sia lo stesso individuo a pochi metri di distanza la nostra guida farro ormai diventato abilissimo antropologo il giorno dopo il ritrovamento del parietale trova questo dente questo molare terzo molare mandibolare e anche questo rappresenta l'unico molare di quella di quella fascia cronologica importantissimo che ci permetterà di avere notevoli informazioni su questo reperto quindi un nuovo reperto siamo a tre forse quattro individui presenti in un'area molto piccola quindi un campione molto grande non più di un individuo ma sicuramente di una popolazione molto simile le cui caratteristiche evolutive probabilmente in questa direzione che noi pensiamo verso Homo sapiens ci rappresentano una scarsa variabilità interna ma una grande potenzialità di ricerca una cosa che non abbiamo detto bene tutto questo che noi troviamo sta tutto confinato in un periodo cronologico estremamente ristretto siamo intorno a un milione di anni quindi l'importanza di questo perché questo vaccino sedimentario ha questo strato con i fossili umani che si estende per tutti i 16 chilometri quadrati del vaccino e ci garantisce che quello che troviamo all'interno di quello strato a meno di un errore cronologico abbastanza ristretto stiamo parlando della stessa gente e questo è importantissimo perché noi non abbiamo da nessun'altra parte tranne che ad Amanisi ma siamo a 800 mila anni prima più individui dello stesso gruppo più o meno più o meno contemporanei anche se hanno 5 mila anni di differenza non ci interessa moltissimo e questo ci permette quindi di fare delle inferenze e trovandone ancora di più potremo finalmente avvicinarci un pochettino di più alla comprensione del sistema questo è il grande 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 vantaggio della nostra ricerca in Eritrea perché ci permette ci dà una ricchezza e una miniera dove generazioni di antropologi dopo di noi che ormai siamo abbastanza vecchietti potranno lavorare a lungo e trovare tantissime cose ma non basta ma perché lo diciamo questo lo diciamo perché abbiamo avuto la fortuna che intorno a un milione di anni esiste un'inversione magnetica e ci data un subcron che si chiama Giarramillo che dura un periodo molto breve e dura proprio da un milione e ventimila anni a novecento trentamila quindi è tutto quello che noi abbiamo si trova in questa faccia scronologica quindi è molto ben datata è una fortuna che quello ci permette appunto di avere questa informazione però dopo tutte queste cose come dice il cavernicolo al diavolo questo schifo di preistorico perché è veramente faticoso e duro questa è la dura vita del campo la macchina che si insabbia la branda dove si dorme e il tavolino su cui si lavora ma non è bastato questo abbiamo deciso insieme ai colleghi di Bologna che partecipano con noi a questa esperienza di lavorare anche su qualcosa di più recente a pochi chilometri dal nostro posto dove lavoriamo abbiamo identificato una necropoli a Di Madera che questa è una foto aerea e che come vedete sono varie tombe monumentali bellissime questa grossa charms di 13 metri di diametro con un muro di 5 metri e una camera interna di 3 metri vedete un monumento molto molto bello anche le forme esterne sono molto molto belle ci ha permesso di ritrovare anche uno scheletro che in questo momento e proprio ieri sono stati portati i campioni alla datazione al C14 ci darà informazioni su cosa è successo dopo tenete presente perché noi abbiamo fatto questo perché ci siamo trovati improvvisamente che sapevamo più degli umani di un milione di anni fa a buia degli umani di 5 mila anni fa e questo ci è sembrato un po' strano perché non possiamo ricostruire così tanto a chiazza di leopardo la nostra situazione di questa parte del mondo della frequentazione di uomo noi di uomo sap se non sappiamo veramente niente e io penso e sono molto orgoglioso che noi abbiamo fatto questa ricerca e anche i nostri colleghi di 3 lo sono altrettanto perché questo è un altro tassello importante la nostra storia è confusa ne conosciamo dei piccoli brandelli spesso non messi a fuoco ma è questo che caratterizza questo tipo di ricerche solo un grande quadro che si può ricostruire partendo da questi piccoli frammenti un grande quadro che ci permetterà di capire speriamo da dove siamo venuti e come siamo evoluti in quell'area del mondo per poi venire a vivere anche da queste parti questo è il gruppo di ricercatori che partecipano alla nostra missione sono le varie istituzioni diverse università parecchie università italiane e diverse istituzioni europee e qualche istituzione americana che collaborano a questo progetto e lì sotto è una foto del direttore del museo di Asmara che mostra il calco del cranio di Buia ai nostri operai a far e anche le nostre mi pare guardie a far che lo guardano con molto stupore e con molta collaborazione e noi siamo molto grati infatti vogliamo ringraziare il villaggio di Buia e il villaggio di Mabbalè che sono i due villaggi che insistono sull'area su cui lavoriamo e da cui provengono gli operai che lavorano con noi per la grande ospitalità che ci hanno dato e per il grande supporto che ci hanno sempre dato un ultimo ringraziamento a chi ci ha dato una mano a fare questa veloce presentazione in poco tempo in particolare tutti i nostri giovani e non più giovani collaboratori e non ultimo in particolare Alessandra Sperduti che ci ha fornito molte delle diapositive che avete visto in quanto non è soltanto un ottimo antropologo ma è anche un ottimo diciamo capace di dare mediatrice culturale mediatrice culturale chiamiamola così e con questo credo in un'ora esatta dal momento in cui siamo partiti precise l'avessimo calcolato non avremmo fatto di meglio abbiamo finito la nostra parte adesso è la vostra parte tocca a voi mi scusi non ho capito forse perché sono arrivato tardi era un ambiente di foresta no assolutamente non è un ambiente di foresta è un ambiente che muta nel tempo ovviamente durante la successione l'ambiente che noi ricostruiamo per Roma è un ambiente paludoso ci sono moltissimi animali d'acqua waterbuck coccodrilli eccetera però ricordiamoci sempre che noi troviamo i fossili negli ambienti paludosi perché gli ambienti paludosi permettono meglio la conservazione dei fossili quindi è un po' tautologica la cosa comunque diciamo è un ambiente più umido di quello che abbiamo noi oggi siete presenti che a quel periodo quando noi siamo in Eritrea nea Dancaglia siamo circa 50 metri sul livello del mare poi arriva la grande depressione e dietro di noi ci sta la scarpata alta 2500 metri un milione di anni fa la scarpata era alta solo 800 metri ed era tutto un altro ambiente se posso e a quanti metri dal mare siamo lì 31 km esatti così recita il cartello che sulla strada sulla strada marina dice buia 31 km quindi questi uomini andavano sicuramente al mare sul mare no 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 questo è il mare attuale il mare attuale ecco e questa è la cosa importante secondo voi il mare a quanto distava all'epoca allora dipende allora la cosa è complica se è possibile saperlo dobbiamo andare un attimino indietro questa risposta è un po' complicata allora prima di tutto voi dovete pensare adesso devo cercarlo datemi un po' di tempo che il quando c'è il nostro uomo non c'è un gigantesco vulcano alto 1500 metri che blocca praticamente la parte nord di questa depressione adesso lo andiamo a vedere è la prima è la prima un attimo ecco ecco qui qui questo è il vulcano Alid che blocca d'accordo che c'ha 30.000 anni che c'ha 30.000 anni noi pensiamo ci sono stati dei momenti che addirittura il mare è entrato e poi se n'è andato da un milione di anni è successo di tutto noi abbiamo dei momenti a lago dei momenti a mare dei momenti a delta dei momenti a sabbia là però esattamente qui esattamente in quest'area dove c'è la I di Assiale esiste il più antico e questa è la domanda che voglio fare il più antico sito del mondo dove c'è certa evidenza di sfruttamento marino dei risorsi da parte di uomo ed è proprio lì nella penisola di Buri che peraltro vuol dire penisola nella penisola di penisola che però ha 150.000 anni è molto più recente non esiste nessun'altra evidenza di sfruttamento di risorse marine più antica sì indubbiamente dobbiamo avere la fortuna che il momento di frequentazione fosse in un momento di altezza delle acque pari alla nostra tutto lì ma chissà tanta roba noi abbiamo migliaia di fossili milioni di fossili che stanno sotto il mare ovviamente volete volete tornare sul questione del passaggio della austropicaeicus a uomo cioè la qualità scientifica su cosa si accorda riguardo al fatto che si può parlare di uomo a un certo punto quali sono i punti in comune in cui appunto le scienze sono d'accordo in questo passaggio quando si comincia appunto a parlare di uomo bel problema grazie allora diciamo che non si può rispondere se non con una risposta storica negli anni 70 Tobias e Napi definiscono la forma più antica di uomo intorno a 2 milioni e qualche cosa e lo chiamano uomo habilis che poi verrà ulteriormente da Gerasimo non Gerasimo da Afanasiev verrà diviso ulteriormente in uomo rudolfensis e in uomo habilis sono queste forme di individui con alcuni tratti molto umani cioè molto vicini a noi che rappresentano hanno molto probabilmente una cultura materiale che prevede anche l'utilizzo di pietra scheggiata tanto che viene messo un po' un rubicone su questo potrebbe essere la storia di uomo negli anni 2000 però una ripresa di questa definizione fatta da Collard e Wood propone invece di cancellare dal record umano l'uomo habilis l'uomo rudolfensis perché sono definiti uomini austropitesine like cioè che sembrano degli austropitesine perché sono passi sono dei tappi scusatemi sono alti un metro e venti non sono come poco tempo dopo questo viene anche sulla grande influenza del trovamento dello scheleto ordinario cotome che viene forse eccedendo trasformato in un gigante di un metro e novanta quando diventerà grande quindi Wood & Collard propone un'altra definizione che dice praticamente sia uomini non quando si fanno gli strumenti che ormai sappiamo che lo fanno c'è forse degli strumenti c'è dei cat marks a tre milioni sono dubbi ma stiamo parlando di austropitecine che usano gli strumenti sicuramente probabilmente lo usava l'austropitecus gari però succede sia uomini quando si è simili a noi tranne che nella parte cranica quando si è dei grandi degli individui molto grandi molto robusti con una conformazione fisica e dentale che vi lascio perdere molto simile alla nostra tutto questo anzi addirittura c'è chi l'uomo Rudolfensis per similarità morfologiche molto chiare la mette in diretto legame al Kenianthropus altra storia complicata però si cambia qualcosa recentissimamente quando viene fuori l'austropitecus sediba questo che lo potete andare a vedere qui in mostra bellissimo è una cosa meravigliosa Lieberger e altri propongono secondo me sti racchiando un po' ma questi sono secondo me che non sono nessuno il fatto che possa essere questa forma di australopiteco che è quella che poi si cerca che venendo dalle formi gracili africane e non dalle forme del West Africa cioè la Farensis oppure il Gari dovrebbe portare avendo delle caratteristiche abbastanza umane dovrebbe e andando fittando abbastanza bene cronologicamente dovrebbe essere il predecessore per una cladogenesi molto veloce proprio da equilibrio puntuato via al volo verrebbe fuori queste forme ergasterine che 37, 33 38, 83 che sono già individui abbastanza grandi con una conformazione molto ben delineata questa sarebbe la storia oggi non so fra 5 anni solo che noi abbiamo dei piccoli problemini abbiamo questo Homo SP lo vedete qua che sono dei reperti piuttosto scanti ce ne pochini però ci sono tipo questa magnifico macellare che viene da Hadar cioè vicino dove hanno trovato Lussi che è datato a 2 milioni e 4 definire questo un australopitecino è difficile e quindi siamo ancora tra coloro che sono sospesi ma questo fa parte del nostro mestiere ecco riguardo a quello che dicevate all'inizio sul fatto che ci sono delle circostanze in cui molte delle nostre convinzioni sono state ribaltate per quanto insomma sia un argomento complicatissimo però diciamo da profano sulla questione del linguaggio parlavano esistevano dei protolinguaggi un milione di anni fa solo come opinione allora cosa complicatissima allora ci sono infiniti diversi diciamo messaggi che ci parlano del linguaggio ci sono dei dati genetici che ci dicono che un certo gene che si connette alla facilità di parlare è un'acquisizione molto recente molto più recente di quello che noi pensiamo sta intorno ai mi pare centomila anni e quindi dovremmo dire che è una cosa molto 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 recente però linguaggio non vuol dire niente stiamo parlando di linguaggio articolato comunicazione che cosa vogliamo parlare io penso che uno dei fatti fondamentali lo prendete come roba mia Luca Bondioli dimenticatevi che sia vero io penso che uno dei fatti scatenanti uomo è un aumento della socialità e questi signoroni diventati grossi aggressivi e cattivi e sicuramente molto 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 in cima alla catena alimentare probabilmente avevano una socialità molto complessa fare una socialità molto complessa con un linguaggio molto povero è un po' difficile fare una strazione come un certo tipo di scheggiatura non semplice della pietra senza un linguaggio è una cosa complicata diciamo che le prove morfologico-genetiche portano verso il tardi le prove comportamentali portano verso il presto io non ho non ho una decisione io direi che molto probabilmente per me avevano un linguaggio ma per ora fa parte cioè non c'ho nessuna prova sto dicendo un parere forse Alessandro Aspeduti che ne sa più di me vi dovrebbe dire qualche cosa altro ma non ho idea io penso che comunicavano che è una cosa differente dal parlare probabilmente si sa che i cani che vivono presso gli umani attuali riescono a comunicare con un centinaio di parole così come gli scimpanzesi sono fatti si sono esperimenti così quindi che parlassero come pensiamo noi è un discorso che comunicassero è un altro sicuramente comunicavano informazioni così come comunicano molti anche primati superiori in qualche modo voglio dire però dove fosse la divisione fra le cose è difficile poterlo poterlo dire se ci chiedete il fuoco la risposta è uguale non lo sappiamo la mostra evidenzia molto chiaramente le varie fasi dell'auto of Africa per cui abbiamo in fasi differenti diversi uomo che si espandono convivono però tutti ritornano o in qualche modo ripartono dall'Africa allora mi chiedo in epoche e in contesti geografici climatici eccetera completamente diversi mi chiedo quali sono le basi logiche o le evidenze scientifiche che hanno portato a questo modello africano-centrico per cui tutto si riconduce e riparte dall'Africa grazie i motivi le prime migrazioni sono avvenute al seguito di grandi cambiamenti climatici e spostamenti di grandi masse di animali d'altra parte qualcuno ha sostenuto che queste grandi masse che migravano i grandi supermercati del passato gli uomini andavano dietro le mandrie perché le mandrie lasciavano una scia di cadaveri vecchi che morivano bambini che venivano calpestati dovete considerare che noi oggi sappiamo pensiamo che l'uomo è incominciato a cacciare non fin quando non ha scoperto l'arco voglio dire la caccia era qualcosa di molto poco significativo quindi la ricerca del cibo era sicuramente poteva essere qualcosa che ha spinto spingeva a seguire queste grandi mandrie che stavano in movimento il problema dell'uomo è un animale particolarmente migratorio questo lo dimostrano anche migrazioni recenti voglio dire tende a muoversi molto in qualche modo il modello si basa su evidenze genetiche fondamentalmente e su evidenze paleontologiche in qualche maniera anche se non tutti sono d'accordo che le evidenze genetiche siano così forti soprattutto per le ultimissime migrazioni da far pensare una una totale divisione fra le forme africane e le forme e le forme extra africane tuttavia per i periodi più recenti probabilmente ci deve essere stato una una spinta a muoversi legata a fattori di cambiamenti climatici che indubbiamente hanno colpito in maniera molto forte gli ultimi due milioni di anni gli ultimi milioni di anni ci sono stati cambi molto grossi che hanno portato a queste necessità di spostarsi per cercare situazioni migliori dove poter vivere poi ci sono anche perché proprio l'Africa è l'Africa allora cominciamo a dire noi ominine non umane ominini non africani poca roba se non dobbiamo andare giù a finire nel profondo del mio ocene perché quello che sembra il modello più accreditato ma che poi si basa su qualche cosa tutti noi a noi milioni di anni fa ci avevamo l'oropiteco che era un nostro parente che stava in Toscana d'accordo ma però non abbiamo un gruppo consistente di antropomorfe non abbiamo un gruppo consistente di ominidi o di di ominine che non fossino che non siano africane e quindi noi pensiamo che da la vengano e c'è una continuità nel regolo paleontologico che non abbiamo né in India né da nessuna parte quindi la prima è sicuramente africana poi man mano che ci alziamo nel tempo è ovvio che il primo grande auto fa Africa che è quello di due milioni di anni che può essere stato anche fatto da homo habilis forse ma io non ci credo secondo me non sono neanche tanto più piccoli quelli da maneggiare sono alti un metro e quaranta scusate io ho un figlio di un metro e cinquanta voglio dire ecco mica sarà un habilis detto questo io penso che sia un po' un'altra certezza perché noi non abbiamo trovato altrove nient'altro qual è il grande ragionamento che da un punto di vista scientifico ci fa porre un dubbio ma che secondo me è molto lontano che noi scopriamo le cose perché si rompe la terra se la terra non si rompe noi non vediamo niente per vedere bene ci vuole un rift di rift non ce ne sono molti ce ne sono stati molto più antichi in Sibelia dove volete voi ma un rift nel periodo che ci interessa sta lì in Africa quindi noi abbiamo la torta che è levitata la crosta si è rotta e noi guardiamo l'Africa la guardiamo bene cioè uno potrebbe dire magari se fosse un rift in India troveremmo qualcos'altro non lo so io credo che poi se aggiungiamo che le conferme sono continue poi andiamo a trovare che c'è geneticamente un qualche cosa che ci porta all'Africa i nostri geni sono in grande maggioranza africani certo c'è stato miscuglio con Neandertal c'è stato miscuglio con tanta altra gente da ultimo l'Africa nella grande problematica del Pleistocene le glaciazioni in questo momento difficili c'erano i punti dove qui c'erano meno 45 da mattina alla sera nonostante abbia avuto grandissime siccità era forse il posto meno colpito più stabile più strutturale ma con una maggiore biodiversità e più variabilità e quindi la pentola che bolliva da cui uscivano gli schizzi probabilmente è l'Africa basta? Sì a me hanno detto che alle 8 ci cacciano con la frusta quindi abbiamo 11 minuti immaginiamo che questi che questi ominiti si siano spostati sulle coste io batto ancora questo punto che poi è un punto abbastanza sollevato quindi che l'evoluzione il passaggio tra australopiteco e omo sia avvenuto sulle coste non troveremo mai quel anello mancante potremmo scavare tutta l'Africa ma quell'anello mancante non c'è o è sotto il mare o si è disgregato c'è questa possibilità questa possibilità secondo voi di non trovare quell'anello perché è lì dove non si può più trovare prima di tutto non c'è nessun anello mancante perché non esistono gli anelli mancanti ma sì però voglio dire il fenomeno era più complesso non è avvenuto in un solo punto è avvenuto in un areale più più ampio voglio dire non non è così micro analitico poi le coste indubbiamente devono non sono state il luogo prediletto credo dei nostri antenati in qualche maniera proprio perché c'era un problema sono diventate un luogo importante le coste quando gli uomini hanno saputo sfruttare ma questo molto tempo dopo le risorse che provenivano da questi ambienti marini poi l'ultima cosa le coste certo che possiamo trovare le cose sulle coste perché poi le paliocoste ne abbiamo un bel po' che stanno in alto che vi posso dire sono andati su sono andate su la grotta del Cecceo è sulla costa ma quando la grotta del Cecceo c'era stava a molti chilometri dal mare cioè questo è un altro discorso che le coste siano importanti sa va a sandir perché sicuramente il mare è un ostacolo anche se qui su questo argomento abbiamo dei problemi grossissimi sul problema di quanto è ostacolo il mare comunque gli anelli mancanti non li potremo mai vedere perché quando lo troveremo non lo riconosceremo perché ci sarà se me cos'è è austropiteco o è homo io dirò che è austropiteco per questo l'altro diranno è homo per quest'altro oppure diranno questo è un diopitecina no è un austropitecina l'anello mancante per sua definizione è indefinito e quindi non lo verificheremo mai noi dobbiamo cercarlo concettualmente ma non lo troveremo mai troveremo solamente quelli che sono i discendenti dell'anello mancante anche perché si dovranno essere voluti si dovranno essere moltiplicati e arrivare a essere presenti nel record fossile quindi per arrivare a essere presenti in un record fossile significa che ci devono stare tantissimi se no non ci arrivano a fossilizzarsi e mai più li troveremo noi un'ultima cosa su questa cosa visto che siete qui e avete fatto questo grandissimo sforzo andate sabato pomeriggio a ascoltare Ian Tattersall che parla all'auditorium su il tempi dell'evoluzione che è fondamentale perché la comprensione del tempo è una delle cose più difficili che più ci rendono difficile la nostra vita una domanda una domanda che forse è stata fatta agli altri se l'aveva dove ritardo la volta nella evoluzione che c'è tra la specie abili la specie erettrica la specie sabbia è stata insomma i gradini di passaggio tra una specie e l'altra sono state le razze oppure le specie diverse possono procreare di diversi io sapevo dalla teoria di Darwin che due specie diverse almeno degli annali non hanno di diversi ma cosa la cosa è qui allora qui lei sta facendo una domanda che ci sediamo qui e finiamo a mezzanotte allora no allora ci sono dei problemi terminologici quando lei parla di specie biologiche e parla di specie fossile stiamo parlando della stessa cosa prima cosa cioè una specie biologica sono degli individui viventi che sono differenziati e che noi abbiamo differenziati uno dei criteri che è stato utilizzato ma non è giusto è la storia che abbiano figli fertili ma non è così bene come Meyer giustamente dice le specie sono differenziate quando non procreano ma non perché non possano diciamo biologicamente ma perché ci sono qualche cosa che le divide da una catena di monti a un continente per cui lei sa che a un certo punto io posso prendere ci sono gli esempi ci sono specie uccelli che in Groenlandia non sono fertili con quelli che vengono dall'Australia ma se lei va e fa tutto il giro del circo polare artico sono tutti fertili tra di loro finché si sono differenziati così tanti che non sono più fertili però queste sono specie moderne e paleospecie è un altro discorso paleospecie sono una cosa più complicata perché questo fatto se siano non siano fertili ad esempio il Neandertal oggi sappiamo che si è ibridato con noi però stare a dire che una specie diversa o meno è un po' specioso brutta affermazione è un po' inutile allora però per tornare alla sua domanda non ci sono i passaggi da abiline a erectus da erectus a heidelbergensis da heidelbergensis a sapples non è lineare è una questione a cespuglio molto più complicata per cui cosa succede? c'è un momento in cui magari io vedo qua d'accordo una specie supponiamo heidelbergensis e qui vedo un Neandertal e sono tra l'altro contemporanei io dico che sono diversi ma in realtà vengono da un punto che sta qui e questa qui è stata una continuazione e questa qui è un ramo morto è un continuo rividersi con talvolta dei nuovi scambi di geni il risultato finale che le speciazioni come essenzialmente le paleo speciazioni che noi vediamo sono fondamentalmente di individui che non sappiamo oggi se fossero interfecondi o meno ma che si erano stati separati e che si sono ritornati assieme l'esempio classico è il Neandertal e il Sapiens che probabilmente venendo da ovviamente un antenato comune si sono divisi uno in Africa uno in Europa dove si è specializzato e poi andrà a rincontrare Mellas dice di no io penso di sì ma a me lui a Cambridge io sto a Roma si incontrano e fanno figli che siamo anche noi perché noi abbiamo un bel 4% di Neandertaliani tra di noi cosa che mi piace molto perché secondo me erano molto simpatici grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti